Oggi presentiamo la risorsa, la magia della luce. L'età consigliata per gli studenti è tra gli 8 e i 12 anni. In questa risorsa si parla di spettroscopio, scienze, fisica, ruote di colori, arte, colori primari, colori complessi, arcobaleno e luce. In questa serie di attività gli studenti costruiranno uno spettroscopio che permetterà loro di vedere le proprietà delle diverse sorgenti di luce bianca o colorata. Studieranno come la luce viene scomposta in colori primari e come si formano i colori complessi. Dovranno realizzare la luce bianca costruendo una ruota di colori. Gli obiettivi sono costruire uno spettroscopio, utilizzare lo spettroscopio per scomporre la luce bianca e i colori complessi, formare colori con la ruota dei colori primari, capire, parlare, sperimentare e sviluppare idee sui fenomeni quotidiani, documentare le esperienze attraverso il lavoro creativo, lavorare in gruppo in condizioni di tempo limitate. L'occorrente per le attività è rappresentato da semplici materiali che possono essere trovati in casa. Considera almeno 4 ore per la pianificazione e l'esecuzione. L'occorrente per questa seconda attività è rappresentato da semplici materiali anche questi facilmente reperibili. Il tempo da considerare è di 2 o 3 ore tra pianificazione ed esecuzione. Grazie a tutti!